Prosegue il processo di statalizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini, firmata infatti nella sede del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la Convenzione tra l'ente, il Ministero delle Università e della Ricerca e l'Istituto, per la concessione da parte dell'ormai ex provincia di un contributo annuale di 51 mila euro e a titolo gratuito dell'uso dell'immobile in cui si trova il Bellini per 99 anni. Le procedure di reclutamento per cui saranno gestite dall'istituzione ma faranno sempre capo al Ministero e soprattutto avremo una garanzia di continuità finanziaria che in vero il Libero Consorzio non ha mai fatto mancare negli ultimi anni, nonostante le ultime difficoltà. Però è chiaro che con questa operazione diamo anche la possibilità all'ente locale di poter anche destinare le risorse in atto destinate al nostro personale anche ad usi collettivi sempre più urgenti. Per converso, la collettività nissena avrà 3 milioni di euro in più perché sono il sostegno della nostra istituzione che verranno direttamente dallo Stato. Lo abbiamo voluto con forza, ci abbiamo lavorato, ci ho lavorato assieme al Presidente, al Direttore, a tutto il Consiglio d'Amministrazione perché si verificasse quello che a breve dovremmo leggere sui giornali riguardante la statalizzazione dell'Istituto Musicale. Non usciamo di scena. Noi abbiamo garantito in questi anni, in questi lunghi anni, il nostro supporto come ente. adesso faremo di più. Tutti i maestri, tutti gli insegnanti, adesso vengono statalizzati, quindi vengono stipendiati dal Ministero competente e questo ci consente e consente all'ente un notevolissimo risparmio economico che possiamo impiegare per altre situazioni che mi stanno anche particolarmente a cuore, come le strade provinciali e le scuole. Questo è un percorso cominciato da molto lontano, quindi cominciato dal maestro Angelo Licalza e terminato oggi dal sottoscritto. Non è un punto d'arrivo, ritengo, per la nostra istituzione e per la nostra città perché l'ambizione nostra è quella di ampliare quella che è l'offerta formativa istituendo altri corsi, tra cui corsi di dottorato, corsi di master. Presenti anche due studenti, Simone Armenio e Chiara Milazzo, la vicepresidente della consulta studentesca Salvaggio Federica e Samuel Lobartolo, rappresentanza della consulta nel Consiglio Accademico, Salvatore Cicotta, sempre rappresentanza della consulta nel Consiglio di Amministrazione di Istituto. Già in precedenza il nostro istituto ha sempre vantato ottimi corsi di perfezionamento che si sono sempre tenuti in ogni classe di corso e possiamo dire, possiamo affermare che ci auguriamo che con questa statizzazione la nostra crescita formativa sia sempre maggiore.